Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritornati in questo nuovo video, buon lunedì, buon inizio di settimana Oggi è già pre-partita, perché andiamo ad analizzare quella conferenza stampa di Perin e Tiago Motta Pre-Juventus-Stoccarda e andiamo un attimino a cercare di capire anche che tipo di squadra andremo ad affrontare domani Perché io sono onesto, non conosco questa squadra, ma è anche il bello di questa nuova Champions Che ci permette di andare a vedere sempre squadre differenti, squadre che solitamente erano limitate a tre I vecchi gironi di Champions in questa occasione ci faceva concentrare soltanto su tre squadre Invece adesso ne abbiamo tante, possiamo andare un pochettino a osservare anche diverse filosofie Abbiamo tante più partite da giocare in questo girone unico e la Juve soprattutto dovrà cercare di dare continuità A quella che è stata un'ottima partenza nella nuova Coppa dei Campioni Partiamo dalle parole di Perin, tra l'altro è stata una bella conferenza stampa Avremo secondo me necessità e tempo di sviscerare un pochettino di concetti Perin che ha parlato quasi da vero e proprio leader, anzi possiamo secondo me togliere il quasi Sono parole di un giocatore che ormai ha raggiunto un livello di maturità veramente molto importante Qual è il clima nello spogliatoio? È per indice, tanto entusiasmo come sempre Stiamo sviluppando la capacità di non farci suggestionare troppo da quanto ci accade intorno Per avere stimoli ed entusiasmo quotidiano Energia e passione vengono messe in allenamenti e partite Sono molto felice, stiamo ricercando di costruire qualcosa di nuovo con una nuova filosofia Cerco di portare esperienza, entusiasmo e passione ai miei compagni Dove può arrivare la Juve? E sul tuo futuro hai qualche novità? Giustamente per indice c'era una canzone che diceva Lo scopriremo solo vivendo Ci piace stare nel momento presente Nello spazio in cui ognuno di noi può dare il massimo E più rimani in quel momento e più riesci a essere performante e alzare sogni e obiettivi Il presente dice a Stoccarda La testa e l'anima sono lì È una partita difficile Che va preparata con una filosofia come la nostra Dato che anche loro amano tenere il pallone È difficile perché potremmo mettere un altro mattoncino stagionale in Champions Stiamo parlando per un mio possibile rinnovo di contratto Nel futuro vedremo C'è voglia di continuare in entrambe le parti Credo che ci saranno novità nei prossimi giorni E da come ne ha parlato per in sembra quasi Questa è un po' una mia lettura Ma che possa esserci davvero una sorta di annuncio O comunque si è abbastanza speso in questa lettura solitamente Quando non sono confermate delle trattative simili Sia un po' più cauti Quindi vedremo se nei prossimi giorni uscirà qualcosa di relativo rinnovo di Perin Sei un riferimento nel spogliatoio in questi anni Come sta andando e come stai consolidando la tua posizione? C'è feeling con Di Gregorio Per indice Io condivido con quanto ha detto il mister Non ci sono dei vice Infatti non mi sento un secondo portiere Non mi fanno sentire tale Né il mister né i miei compagni Diciamo che mi piace dire di essere un co-titolare Ovvio che il mister fa le sue scelte Poi alcuni giocano di più e altri meno E noi dovremo metterlo in difficoltà nelle scelte Per far capire che chiunque in campo Può sostituire chiunque in panchina e viceversa Con il lavoro dimostreremo che siamo 23 possibili titolari Credo sia la direzione che dovrà prendere anche il calcio in futuro Si gioca molto È vero Però se si hanno rose da 23 Con tanta competizione interna Magari un calciatore non dovrà più fare 50-60 partite all'anno Ma qualcuno è meno E un'altra invece potrà farne una ventina È una mia idea Ma credo che si vada in quella direzione lì Carlo è bravo e lo conosco da tempo E stiamo costruendo qualcosa di importante anche con Michele Che è un bravo ragazzo e un portiere forte E tutti e tre ci spingiamo a migliorare la vicenda Quando ti svegli la mattina E non è la barzelletta E ogni giorno in mattina si sveglia in Africa Una zebra E non vedi l'ora di arrivare al campo Perché c'è una trasparente competizione con il compagno È una delle cose più belle E per cui si gioca a calcio Molto bello secondo me il discorso di Perin Sul calcio che va in una certa direzione Il calcio che va verso la necessità Di avere sempre più titolari All'interno delle rose Io credo che corrisponda A vero quanto detto da Perin Quindi sono molto molto d'accordo Con la lettura del nostro numero uno Motta coinvolge i portieri in costruzione Ti senti migliorato? E come è cambiato il lavoro di voi portieri? E Perin dice Intanto non si smette mai di migliorare la tecnica Fino a che le gambe e la schiena ti sorreggono Io non l'ho mai migliorata Ci sentiamo molto coinvolti Dipende anche molto dalla disponibilità dei compagni Questa è una cosa che ha portato il mister La voglia di dare più opzioni possibili al compagno Con la palla tra i piedi È il modo più semplice per mettere in salto La bravura di un portiere anche con i piedi Quando un compagno ti dà disponibilità Diventa tanto più facile uscire dalla pressione avversaria E questo sicuramente è il passo in avanti Più grande che ha affrontato la Juventus e Tiago Motta Credo sia in sombra di dubbio L'altro giorno, anzi ieri, nelle pagelle Un ragazzo mi ha detto Ma perché ai portieri della Juve dai sempre senza voto? Perché ovviamente in Serie A Ci sono tante partite in cui gli avversari Proprio nemmeno tirano in porta la Juve Ed è successo tante volte Quando invece i portieri di Tiago Motta Fanno un ottimo lavoro con i piedi E questa è una riflessione molto giusta e importante Hai ragione Hai completamente ragione Poi credo che sulla valutazione del portiere Sia un po' complicato Dare un voto soltanto per quello che fa con i piedi Però effettivamente è vero E Perin oggi ce lo spiega E quel commento di ieri è assolutamente perfetto Quindi grazie per aver portato Uno spunto di riflessione importante All'interno di un contenuto del canale Le vittorie col PSV e Lipsia Vi hanno dato una consapevolezza diversa in Europa E per indice Soprattutto quella di Lipsia Ha alzato un po' lo standard a cui possiamo arrivare Una consapevolezza che ancora non avevamo raggiunto Ognuno di noi dando il massimo Può alzare ancora più il livello Con obiettivi che man mano ci prefissiamo Quella partita ci ha fatto capire Che quando siamo totalmente connessi Creiamo una sinergia speciale La percepisci La tagli con il coltello È un'energia pazzesca che sviluppa dopamina Vuoi che quel flusso di energia diventi un'abitudine Come stiamo lavorando e interagendo Dentro e fuori dal campo Potrebbe alzare anche il nostro standard di rendimento Ma quello dipende da noi E quindi Perin va su quella partita lì Che anche secondo me ha portato qualcosa di importante Dentro la Juventus E va a spiegare che lì si sono veramente resi conto Che qualcosa stava cambiando Puoi spiegarci la nuova filosofia Di cui parlavi prima nel dettaglio Perin giustamente dice Dovresti parlare col mister Tiago Motta Dice no no Mattia Spiega quello che intendiamo per gioco E allora Perin Come se fosse una sorta di interrogazione Dice Come dice il mister Il gioco non è soltanto attaccare Ma anche difendere I difensori devono essere i primi attaccanti E gli attaccanti i primi difensori La filosofia non è solo gioco Ma anche stato mentale Atteggiamento Che porta a semplificare quello che facciamo in campo Passa dagli allenamenti Dalla conoscenza del nostro compagno E di noi stessi Quando andare oltre O anche decelerare un pochino Per tutelare il nostro fisico E non mettere in difficoltà la squadra Stiamo cercando Di costruire una cosa nuova Il mister e lo staff Stanno cercando di agevolare E diminuire i tempi Per costruire questa nuova filosofia E Tiago Motta Da bravo professore A un certo punto Al termine della risposta Per indice Assolutamente perfetto È una nuova Juve È una nuova Champions Quali sono gli stimoli che si provano? E per indice Risposta anche molto romantica A 6, 7, 8 anni Sognavo di giocare La Champions League Se avessi potuto esprimere un desiderio Avrei chiesto di giocare Una partita di Champions League Crescere Anzi crescendo Le ambizioni cambiano Ed è giusto Avere gli stimoli giusti Per migliorare È la migliore competizione Al mondo per un calciatore Se non trovi gli stimoli qui Non so dove puoi trovarli Percepisco l'energia che cambia La Serie A è spettacolare Ma la Champions Mi accende qualcosa dentro Che mi ricorda Il Mattia Bambino Che sognava di giocarla Risposta molto molto bella 8 partite giocate in Serie A È un gol preso È un record Anche se domani Giochi alla Champions E in Champions Mi ha preso più gol Però Vabbè Ok Ti sei mai sentito così protetto? Qual è il segreto Per prendere pochi gol? E per indice Il segreto è la partecipazione di tutti Dagli attaccanti Fino a scendere È una questione di atteggiamento E attitudine Sono 11 uomini Che lottano per non prendere gol E diventa uno stato mentale Lo stiamo facendo molto bene Dobbiamo continuare a coltivare Quest'attitudine Mi sento super protetto A prescindere da quello Che stiamo mettendo in campo Per la qualità di tutti E 23 i miei compagni Sento che stiamo costruendo Una mentalità solida Ma siamo Non siamo al massimo Siamo soltanto all'inizio E ci sono tantissimi Margini di crescita E poi la domanda Delle domande Preparatevi Perché questa è veramente La domanda delle domande Mattia Ma che linguaggio forbito? Ti sei preparato Per questo Per questa intervista Ti stai preparando O c'entra qualcosa A quello che vorrai fare In futuro Dopo il ritiro? Ok? Perin dice No Fortunatamente Leggo tanto Ti ringrazio Per avermelo fatto notare Ma ho il diploma Di quinta superiore E semplicemente Leggendo tanti libri Questo mi aiuta Domanda Domanda omologata Per Juventus È il bello È il bello di essere In una squadra Ci sono dei limiti Che vanno superati Lavorando L'aspetto mentale È fondamentale Non solo nel calcio Perché secondo me Fa l'80% di una persona Ci tengo a sottolinearlo Sempre Perché parte tutto Dalla mente Soprattutto nel calcio Ma anche in tutti gli sport E in tutti i lavori E io Credo che questo Possa fare la differenza Anche nell'aiutare le persone A me piace Soffermarmi su questo Perché siamo ascoltanti Da tanta gente Curando l'aspetto mentale Possiamo superare Anche dei momenti di difficoltà Con più facilità Quindi Perin Prima dice Che legge tanti libri Poi parla Di aspetto mentale Quindi sicuramente Un ragazzo Prima che un portiere Un ragazzo Che ha voglia Di informarsi E di migliorarsi Anche in contesti Che in teoria Non dovrebbero appartenere Al suo lavoro Ma che di riflesso Sono importantissimi E poi arriva Tiago Motta E gli chiedono Quelli di domani Che squadra sono? E allora Tiago Motta Dice Ma gli serve una gara completa Contra una squadra Che gioca bene Quando ha la palla Pressa molto bene Soprattutto in prima Pressione Poi si ricompattano Con un esterno Che va a costruire Una linea 5 Difficile a superare E io qua ho pensato Oh no Un'altra squadra Che si chiude Un'altra squadra Che mette 5 difensori Mi piace come squadra È una partita bella Da giocare Per competere Su chi avrà più controllo Del gioco Dobbiamo attaccare bene Una squadra completa E anche a Tiago Motta Domandano Dopo l'Ipsia C'è stata una svolta E lui dice Ho visto E vissuto Un momento bellissimo Nelle difficoltà Abbiamo affrontato Tutti insieme Anche quelli Che non sono entrati Dato che in panchina C'era energia positiva Che contagiava Chi stava vicino Poi si è visto Ovviamente in campo Dato che abbiamo Affrontato tutto Nel modo giusto È stata una vittoria Meritata e bella Domani siamo concentrati Per fare una grande Prestazione Contro una buona squadra E poi dicono Dai suoi giocatori Si percepisce Si percepisce coinvolgimento Qual è il prossimo limite A breve termine Da superare E Tiago Motta Giustamente dice Dobbiamo sempre superarci In tutto Si può sempre migliorare Nel gioco E nell'aspetto umano Serve per tutti Anche per voi Possiamo migliorare sempre Siamo aperti E umili Una squadra che lavora bene Affronta partita per partita E la prossima È lo Stoccarda E poi Questa mi ha fatto ridere Perché hanno domandato A Tiago Motta Sono tutti uguali Ma Calulo è un po' Meno uguale degli altri Il Milan vi ha fatto Un bel regalo E Tiago Motta risponde Ma tutti uguali Saranno per te Io non l'ho mai detto E allora gli dicono Ma come Hai detto che per te Sono tutti titolari E Tiago Motta dice Ma sì Io li considero tutti titolari Ma Mattia non è uguale a Michele Pierre non è uguale a Federico Sono ragazzi diversi Da cui pretendo le stesse cose Ma vanno trattati diversamente E giocano diversamente Giustamente Ogni persona va trattata In un modo diverso Poiché dai giocatori Pretendi la stessa roba Questo è tutto un altro discorso Secondo me E a quanto pare Anche secondo Tiago Motta Qui dicevano Quando parlava Perina Non vi è soddisfatto E Tiago Motta dice molto E allora dicono Anche Di Gregorio nel tunnel Diceva che il mister aveva ragione E questo è il primo successo Avere in mano lo spogliatoio In questa maniera netta E Tiago Motta è molto bravo qua Perché invece che dire Un mio successo Dice no La prima vittoria Che ha un allenatore È avere dei giocatori forti E questa quindi È la mia prima vittoria Dato che io I giocatori forti Li ho Mattia Michele Carlo E poi tutti gli altri Parla dei portieri E poi prosegue con il blocco Di difensori centrocampisti Attaccanti E dato che andiamo tutti Nella stessa direzione Sapendo quelli che sono I nostri obiettivi Li possiamo raggiungere Come squadra In questo momento Abbiamo grande atteggiamento Di difficoltà A tenere sott'occhio E i due terzini Sei uomini Che vanno ad attaccare Più i mediani E i difensori centrali Che vanno a consolidare Il possesso palla Sono una squadra Completa Che sa cosa fare in campo Che nella sua filosofia Riesce ad interpretare bene Cercheremo di portare La partita dalla nostra parte Con la palla Lottando Difendendo E pressando Ma sempre insieme In realtà qua Tiago Motta Ha detto anche Tante altre cose Io le ho riassute Perché veramente Ha detto una marea Di informazioni Per questo vi invito Anche ad andare a vedere La conferenza integrale Andare a ascoltare Anche il mister Come dice Determinate cose Io ho cercato di farvi Un riassunto Quanto più affidabile E preciso possibile Tra l'altro guardavo Un po' di dati Dello Stoccarda Che in Bundesliga È al decimo posto Quindi nulla Di entusiasmante Da questo punto di vista Ma La particolarità È che hanno segnato 15 gol E ne hanno subiti 15 Quindi hanno zero Di differenza reti In questo momento Mi sembra una squadra Un po' passerella Diciamo così In Champions Non sono partiti bene Hanno perso con Reale Poi hanno pareggiato La seconda Quindi hanno necessità Sarà una squadra Quasi cannibale Che andrà alla ricerca Dei punti E credo che questo sarà Un piccolo problema Per la Juventus Perché loro dovranno Per forza di cose Provare Quasi una partita Da dentro fuori O comunque una delle prime partite Da dentro fuori Che avranno Perché non possono continuare A non fare punti Assolutamente Devono cercare di arrivare Quanto meno Ai playoff Però sono una squadra E avrei aggiunto Non crede che Ildis Si trova Si trova Si ha più agio Giocando per vie centrali Piuttosto che da esterno Però Tiago Motta Un pochettino Tocca questi punti Secondo me questo è il più grande Limite attuale Dall'evento di Tiago Motta Io sono contentissimo Del lavoro che fa Kennan È un ragazzo che mette Tutta la qualità A servizio della squadra Come tutti noi Io per primo Possiamo fare meglio Senza dimenticare Anche se nel calcio di oggi L'età relativa Che è un ragazzo del 2005 Che sta dando tanto Alla squadra Sono veramente contento Di averlo con noi Sia da esterno E sia dentro il campo La sua voglia di migliorare Si inizia dagli allenamenti Il modo in cui affronta Le partite In fase offensiva E difensiva In Champions Ha fatto un grande gol Ma non solo E fa parte di un gruppo Che funziona Lui può migliorare Io posso migliorare Tutti possiamo migliorare E questo è un concetto Meraviglioso Infatti io sono contentissimo Che oggi abbia parlato Perin In prima battuta Perché Perin Mi è piaciuto tanto Dal punto di vista comunicativo Perin mi è piaciuto tantissimo Quindi sono veramente Molto 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 felice Che Perin sia il nostro portiere E nel caso Che possa rinnovare il contratto Perché Perin è un lusso Come portiere non titolare O cotitolare Come ha detto di essere lui Però i concetti Di miglioria mentale Che ha espresso Perin Sulla gli stessi concetti Che esprime Tiago Motta Su Hildiz Perché non ne fa tanto Una questione Di posizione Nello spazio E quindi Di dove va collocato Nella scacchiera Se come esterno Come trequartista Che per me Quello fa tanto la differenza Tiago Motta dice Attenzione Stiamo parlando di un ragazzo Che ha la sua prima stagione A titolare Nella Juventus È un 2005 Quindi è la sua prima stagione A titolare Nella Juventus Ha 19 anni E si mette a disposizione Di Hildiz O che lui possa migliorare E quindi sentire più suo Quel ruolo Che oggi Secondo me Non è ancora Di totale appartenenza Hildiz Sono due cose Meravigliose E quindi Da questa risposta Io Sento O comunque leggo Un Tiago Motta Che è d'accordo Sul fatto che Hildiz In questo momento Non stia ancora brillando Ma che si prende Tutto il buono Di quanto questo ragazzo Sta mettendo in campo Da titolare Perché è un titolare Dato che davanti C'è una sorta Di Muria generale E sta giocando Anche in una posizione Non proprio idonea Alle sue caratteristiche Quindi Mi tranquillizza molto Questa risposta Una domanda Ripeto Necessaria A questo punto E poi dicono Se per lei Sono tutti titolari Ma non uguali Ha già certezze Per domani E potrebbe giocare Titolare anche Danilo E Tiago Motta dice I giocatori sanno già I titolari E tutti possono essere Titolari domani E Cambiaso Può essere il capitano domani? Sì Quindi Vedremo Secondo me sarà ancora capitano Cambiaso domani Perché non vedo La logica Nel metterlo capitano E poi toglierlo Per mettere un altro Secondo me Ci sono dei veri e propri Minicicli In cui Tiago Motta Vede i capitani E ora il capitano Sarà cambiaso Per qualche partita Però magari sbaglierò Ovviamente Se gioca Danilo Il capitano sarà Sarà Danilo Lei è il mister Dello Stoccarda Avete 42 anni Come Xabi Alonso E Arteta Da questa Champions Può imporsi Una nuova generazione D'allenatori? Tiago Motta dice Chi lo sa Si vedrà alla fine Giustamente Non sono Un indovino Non ho la spera Di che stallo Penserà E quindi è giusto così Significa che L'età relativa Conta poco È un allenatore Molto preparato E lo dimostra il campo Infatti competeremo Con una buona squadra Il resto Si vedrà alla fine Noi pensiamo a domani E alla preparazione Per far arrivare Il risultato Con Xabi Alonso E Arteta Ho giocato insieme E contro E ora invece Alleniamo in Champions Della serie Comunque qualcosa di buono L'abbiamo fatto Questa è una domanda Un po' particolare Perché chiedono McKennie Con tre partite Una partita ogni tre giorni Può essere utile Più con lo Stoccardo Con l'Inter E dice È utile Con entrambe È un giocatore Che è sempre utile È concentrato Su domani Sull'Inter Avremo tempo Di preparare Pensare Siamo al 200% Focalizzati su domani Poi vedremo Ma ci mancherebbe altro Che Tiago Motta Nella conferenza stampa Pre-Stoccarda In Champions League Ti vada a dire No guarda Qua che stiamo pensando All'Inter Noi dello Stoccarda Domani non ce ne può Fregar di meno Noi stiamo pensando All'Inter Ma sarebbe una follia Ma che domande sono Delle due Avrei chiesto No Dato che si voleva Parlare di McKennie McKennie ha recuperato Quel affaticamento Che l'ha tenuto fuori Con la Lazio Lo terrà fuori Anche con lo Stoccarda Cobbeners Ritorna Cioè ci sono tanti giocatori Come sta Nico Gonzales Come procede Il recupero Ci sono tanti giocatori Fuori nella Juve Invece chiediamo Se McKennie può essere utile Con lo Stoccarda O con l'Inter Boh Sono un po' Confuso E sorpreso Le statistiche Dello Stoccarda In Champions Dicono che tira tanto E segna poco E qualcosa dietro Lascia Che è un po' Quello che vi dicevo Nei 15 golfati E 15 subiti Della Bundesliga E Tiago Motta Sarà una partita Diversa contro una squadra Che sta bene Che gioca bene Poi dato che I dati che hai nominato Mi trovano d'accordo Devo dire però Che non è solo la Juve Che ha difficoltà Con le squadre Che si chiudono dietro Perché questa era Un altro pezzo La domanda Diceva Magari Può essere una partita Buona contro una squadra Che forse Non andrà a chiudersi dietro Perché comunque Questo card ha preso Anche 15 gol E Tiago Motta dice Trovami una squadra Che non va in difficoltà Contro delle squadre Che si chiudono dietro E non ti fanno giocare Questo è un gioco Fatto così E per questo è bellissimo Per questo dobbiamo andare Al massimo E credere in noi Nel campo Come abbiamo fatto Nell'ultima partita Speriamo domani Di fare una buona prestazione Di giocare bene a calcio E di vincere Dato che giocando bene Avremo più probabilità È un po' Il ragionamento Che fanno Le piccole squadre O che forse facevano Che fanno ancora Ma in minor parte Perché Oggi anche le piccole squadre Provano a giocare A fare qualcosina Di più sul campo Però una volta Le piccole squadre Ti dicevano Dato che È difficile Che possa andarmi A giocare a viso aperto Perché poi Escan fuori Delle differenze tecniche Importanti Contro gli avversari Vado a chiudere Tutti gli spazi E poi in qualche modo Cerco di portare O a casa il pareggio Sullo 0-0 O se prendo gol Provo a ribaltarla Su un piazzato Una roba del genere Dove è più facile Far gol Con meno organizzazione Tiago Motta Ammette Sì Ma È giusto Ammetterlo Perché è un dato Che è veramente Nitido Lo stiamo vedendo tutti Una cosa Il segreto di Pulcinella Una cosa oggettiva La Juve fa molta fatica Contro le squadre chiuse E quando parla di migliorare Tutti possiamo migliorare Io posso migliorare Siccome Tiago Motta Fa riferimento Anche e soprattutto A questa roba qui Poi dicono C'è una differenza Che salta all'occhio Alla Juventus Tra Champions e Campionato Sulle reti fatte Su quelle subite Che cosa cambia Tra Champions e Campionato E dice Tiago Motta C'è zero differenza Domani Nel calendario C'è una partita di Champions E loro sono una squadra forte Noi siamo pronti A fare una grandissima prestazione E vedo Zero differenze Soltanto Una storia diversa E strategie diverse In partite differenti Quindi queste sono Le letture Del mister E di Perin Ripeto Una conferenza stampa Interessante Soprattutto Quando ho parlato Perin Ci sono state Delle tematiche Importanti Perin È un altro Che non sentiamo Con così tanta continuità Ai microfoni Ma Secondo me Avrebbe materiale Avrebbe spazio Importante Per dirci tante cose Molto molto interessanti Che vanno anche Un po' fuori Da quelle che possono essere Le caratteristiche standard Di un calciatore O comunque Quello in cui Identifichiamo i calciatori Per me sembra Una persona Che ha veramente Tante tante cose dentro E che può tirar fuori Che sa Che in futuro Non si possa Approfondire anche un po' Questa cosa E che i calciatori Possano trovare Un po' Più di libertà Nel comunicare Magari anche All'interno Dei canali tematici Delle squadre Sarebbe molto molto interessante Sentire la loro opinione A 360 gradi Su più cose Beh Questa invece era la mia Ora tocca a voi Invece è la vostra opinione Qui sotto nei commenti Non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Di lasciare un mi piace A questo video E noi ci vediamo domani Col video pre partita E poi ovviamente Alle 21 c'è la partita Quindi noi da Le 20.45 Saremo in live Sul canale Twitch Per viverla insieme Poi ci vedremo Con tutti i contenuti Post partita Ciao a tutti E buon lunedì